A che cosa posso paragonare il regno di Dio? È simile al lievito che una donna prese e mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata. Shalom, fratelli e sorelle in Cristo. Oggi mi soffermo su un particolare, finché non fu tutta lievitata. Continuiamo a ripetere che fa tutto Dio. Egli fa crescere il suo regno sulla terra e nelle vite di tutti coloro che si sono arresi al suo amore. Anche noi ci siamo arresi all'amore di Dio, quell'amore che ci ha sedotti e continua a sedurci, e per questo il regno si svela davanti ai nostri occhi. Bene, Dio non si fermerà fino a quando il regno non lo vedremo rivelato in tutto il suo splendore. È difficile credere a tutto questo in mezzo a tante preoccupazioni, mentre sentiamo tragedie di vario genere, la vicenda della guerra, le divisioni tra credenti, l'odio tra popoli. Però noi dobbiamo essere forti, saldi nella fede, e credere che Gesù è Signore dei vive e dei morti, è accanto a noi, è accanto a chi soffre, e accoglie chi muore. Gesù, attirami a te, fammi entrare nel tuo cuore, immergimi nella tua carità infinita, e fa che già su questa terra io sia concittadino del cielo, fratello dei santi, misticamente unito al Padre, a te che sei figlio, allo Spirito Santo amore, e a Maria, tua è nostra madre. Amen.